Se avete trovato questo adesivo sul vostro bidoncino della differenziata siete avvisati ritirate il contenitore altrimenti scatta la multa. I primi cedolini sono già stati staccati. Nelle immagini che vedete la telecamera del comando di polizia locale riporta la situazione di piazza Giustiniani. Qui, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo, capita sovente di trovare i bidoncini lasciati in strada anche per giorni. Sul marciapiede, sotto agli alberi o qui a ridosso dell'androne del palazzo. A volte si tratta di pigrizia nel senso che è molto più semplice e facile lasciare il bidoncino fuori casa, magari sul marciapiede impedendo magari ad anziani o disabili di passare e quindi invece è una brutta abitudine che stiamo cercando di risolvere anche con delle sanzioni. Ma ripeto, l'obiettivo non è sanzionare ma prevenire. L'adesivo funziona come un preavviso di contestazione e viene rilasciato dagli agenti del nucleo antidegrado. Troppo presto per fare un bilancio sull'ordinanza firmata dal sindaco quasi un mese fa. I controlli però sono iniziati. Oltre alla multa, l'ordinanza prevede anche la rimozione del bidoncino con spese a carico del proprietario. L'ordinanza che va nella direzione delle condizioni igienico-sanitarie da rispettare, nel senso che molti cittadini prendono il bidoncino la sera e lo portano dentro, molti purtroppo in certe zone lasciano i bidoncini per settimane intere. Quindi era il momento di intervenire. Il nucleo antidegrado sta monitorando tutto il territorio comunale. naturalmente non è un'ordinanza che va per sanzionare i cittadini ma per prevenire situazioni igienico-sanitarie particolarmente precarie.